L'obiettivo filmare dell'azienda digitale è il fatto di attivare la comunità, le realtà presenti nella nostra comunità, in termini di idee, di creatività, di positività. Ogni di noi debba fare il possibile per fare emergere dalla rete della nostra città il meglio che c'è e magari aiutare le cose a connettersi fra di loro. Questo drago l'ho fatto io, lo voglio insegnare al mio maestro. Ed è nel mese dottor e partirà un corso di autorizzazione digitale rivolto alle persone anziane del nostro territorio. L'agenda digitale? La zona? L'agenda! Sarà... La roba vi di tassa? Non ho idea allora... Facebook, Youtube, iStars... È semplice nonna, prima scrivi un post e poi fai la galleria fotografica. È semplice, vedi? Al posti, la galleria... Scrivi, scrivi... Ma scrivi me o che scrivi te? Lo sono tutti, nonna... La scrivi tu... È semplice... Grazie.